As einfachi leia che mi hanno fatto il giorno più rassuto la casa italiana che stavamo via tra le 10, 14 ore, 3 quando torno a mello e la nornare quattro a mello in Buon Sedona ho fatto sono finire l'ordine nazioni stasperata e ci sono i ripoli delle scopate per esserci di ritorna di Campoligua se vede a mello che si vauję di ritorno a te rolle e volia parlare di ritorno per i ritorno a mello